Qualche giorno fa vi ho parlato di Zooks. Quest'azienda si concentra principalmente su tutto quello che riguarda la guida autonoma. Però non è l'unica competitrice in questo mondo in rapida espansione. Infatti oggi vorrei portarvi un'altra di queste grandi aziende e sto parlando ovviamente di Waymo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di Waymo, ma prima di cominciare sapete già cosa fare, di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale che farebbe vedere questo video a molte più persone. Grazie mille. Waymo come Zooks è controllata da un'altra azienda madre molto più grossa e con molto più capitale. Infatti per quanto riguarda Zooks stiamo parlando di Amazon, ma per quanto riguarda Waymo stiamo parlando di un altro dei più grandi giganti del tech americano, che è ovviamente Google. Come ho già detto all'inizio, Waymo è una di quelle aziende che si sta concentrando di più verso risolvere la guida autonoma. E già dalla sua nascita, nel gennaio del 2009, l'azienda madre Google appuntò come amministratore delegato Sebastian Thrun, che al tempo lavorava alla Stanford Artificial Intelligence Laboratory, o detta all'italiana Laboratorio di Intelligenza Artificiale di Stanford. Il lavoro di intelligenza artificiale e sulla guida autonoma non erano nuove a Google. Infatti quello che poi divenne l'amministratore delegato di Waymo, lavorò con la propria università per creare un progetto di nome ViewTool, che in pratica serviva per mappare le strade e avere una visuale vera e propria su quella strada. Quello che poi diventò Google Street View dopo l'acquisizione di questo progetto da parte di Google appunto nel 2007. Inizialmente l'azienda che poi venne conosciuta nel 2016 come Waymo si chiamava Project Chauffeur, un cenno non troppo celato al fatto che fosse una compagnia di guida autonoma. Infatti, come tutti noi sappiamo, lo Chauffeur è il conducente privato. Nel 2010, infatti, quando ancora il nome era appunto Project Chauffeur, utilizzarono alcune di queste auto che venivano utilizzate per Street View per fare dei test di guida autonoma nelle città più grandi americane. Ma questo venne scoperto dal New York Times e l'azienda fu costretta a fermarsi di fare questi test, finché nel 2012 in Nevada venne creata una legge apposta per permettere alle auto autonome di circolare. Verso la metà del 2014, Google presenta la sua idea di veicolo completamente autonomo. Ed è rivoluzionario in tutti i sensi. Infatti non ha un volante, non ha un acceleratore, non ha un freno ed è appunto 100% autonoma. Ed era una cosa mai vista. A quest'auto così particolare venne concesso il privilegio, mettiamola così, di andare per strada agli inizi del 2015 nella città di San Francisco. Quest'auto veniva chiamata Firefly. E non è stata concepita per essere un'auto di produzione di massa, ma era un modo di imparare e sperimentare fino a che punto poteva spingersi la guida autonoma e verso la fine del 2015 il Project Chauffeur aveva già percorso oltre 1.6 milioni di chilometri. Come dicevo anche prima, nel 2016 l'azienda cambiò il nome in Waymo, entrando così a far parte dell'ecosistema Alphabet, di cui fa parte anche Google. E nel 2017 iniziarono i primi test con alcuni minivan a Chandler in Arizona. Tutto questo senza alcun conducente di sicurezza. Waymo, essendo sotto l'ala protettiva di Google, non ha mai avuto dei grossi problemi finanziari. Infatti a tutt'oggi è valutata fino a 3 miliardi di dollari. Ma una delle cose che non ha mai voluto tentare è utilizzare dei propri veicoli costruiti in casa come veicoli per la guida autonoma, o taxi autonomi in questo caso, avendo solamente creato una singola unità di Firefly di cui parlavamo prima. Infatti ha preferito utilizzare veicoli di altre case automobilistiche come base per le proprie tecnologie. Ed infatti possiamo vedere che i veicoli utilizzati sono per lo più delle Chrysler Pacifica ibride. Inoltre recentemente Waymo ha collaborato con Volvo per inserire dentro i veicoli di quest'ultima casa produttrice le proprie tecnologie di guida autonoma. Ma parliamo anche delle tecnologie che usa Waymo per fare in modo che i propri veicoli si guidino da soli. Waymo decise molto presto di utilizzare i propri fondi per costruire da sé tutto quello che riguardava i sensori, le videocamere, i chip per la guida autonoma. L'unica cosa che rimase fuori per un bel po' di tempo furono i sensori laser o LiDAR che inizialmente venivano comprati da un'azienda di nome Velodyne per ben 75.000 dollari ogni singola unità LiDAR. Questo prezzo in seguito diminuì del 90% dopo che Waymo iniziò a produrre anch'essa i propri sensori LiDAR. Ma che cosa sono i LiDAR? In pratica sono dei laser che vengono utilizzati per mappare il mondo circostante al veicolo. Questi dati poi vengono presi e dati in pasto, passatemi il termine, a un supercomputer. Il LiDAR è particolarmente preciso per quanto riguarda la distanza che c'è tra il veicolo e l'oggetto colpito dal laser. Waymo, come molti altri, per essere sicuro di poter utilizzare questo sistema LiDAR a 360 gradi ha deciso di mettere il sensore principale proprio sopra il tetto del proprio veicolo. Infatti è un po' quella protuberanza che si vede girare proprio sopra l'auto. Ma pur avendo tutti questi sensori a propria disposizione, l'auto non è completamente autonoma finché il proprio software, che è poi quello che fa girare l'auto, che è il cervello dell'auto, è stato riempito di informazioni. Lasciate che vi spieghi un attimo. Il problema della guida autonoma è un dilemma così grosso perché le auto sono guidate da persone viventi che scelgono a volte di fare la cosa più sbagliata. Questo porta dei dubbi al software che segue alla lettera ciò per cui è stato inventato. Infatti ci sono casi documentati di alcune auto Waymo che si trovano ferme ad un incrocio solamente perché le auto si prendevano la precedenza pur non avendo la seconda legge. Questo è un argomento molto vasto, quindi vorrei farci un video a parte riguardo tutte le varie versioni di guida autonoma, tutti i sensori e capirci un po' quali sono le differenze tra una casa produttrice e l'altra. Vi basti sapere per ora che per avere la visione, passatemi ancora un altro termine, Waymo usa i LiDAR e diversi sensori. Ma è vero anche che i veicoli a disposizione di Waymo sono pochi, perciò l'azienda ha dovuto utilizzare un simulatore, un software per simulare le strade reali e con questo software sono arrivati fino a 5 miliardi di miglia o 8 miliardi di chilometri. Ma questo continua ad essere abbastanza per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che possa girare in qualsiasi posto in cui si trovi, comportandosi come un essere umano o meglio di un essere umano. Infatti per ora Waymo sta lavorando al proprio sistema di taxi autonomi, solamente in alcune città specifiche e molto piccole per gli standard americani ovviamente, come Chandler in Arizona, andando a mappare ogni singola via e riducendo ogni possibile rischio. Alla fine dei conti la guida autonoma si pone sì di migliorare la vita di centinaia e migliaia e milioni di persone, ma per lo più si pone anche di salvare moltissime vite, date anche la distrazione, la stanchezza, persone ubriache, tantissime cose che possono succedere per strada non succederebbero se fosse un computer a guidare, che non si stanca mai e che è infallibile. È vero però che per arrivare a un livello tale di guida autonoma bisogna fare moltissimi test ed alcuni di questi test possono rischiare di mettere a repentaglio, non dico la vita, ma sicuramente la sicurezza di alcune persone, come è successo appunto anche a Waymo. Infatti hanno dichiarato di essere stati la causa di diverse collisioni causate da problemi di software per lo più. Questo ha portato al fatto che ogni singola azienda che voglia testare i veicoli autonomi per strada debba riportare dei dati ai dipartimenti della zona. Waymo in particolare ha un report mensile in cui dichiara i propri standard di sicurezza e nel caso ci fossero stati degli incidenti, in modo da mantenere informati i propri investitori o comunque chi si interessa a questo servizio o a chi lo utilizza. Infatti non c'è da dimenticarsi che Waymo nasce per lo più come servizio di taxi autonomi e all'interno possiamo trovare pochissimi tasti, che poi sono quelli per scegliere la destinazione, e nessuno è seduto nel posto del guidatore. Per quanto riguarda invece il futuro di Waymo e le ambizioni che hanno, sappiamo che i veicoli che utilizzano sono per lo più auto ibride, come dicevo appunto la Chrysler Pacifica, ma è stato imposto loro di utilizzare dei veicoli completamente elettrici per questo servizio di taxi autonomi. Questo ha portato l'azienda ad acquistare delle Jaguar I-Pace ed iniziare ad allestirle per essere dei veri e propri taxi autonomi, con le proprie tecnologie e con i propri sensori LiDAR. Inoltre l'azienda sta lavorando ad un sistema di sensori da applicare a dei veicoli già esistenti, per lo più per quanto riguarda un servizio di trasporto merci chiamato Waymo Via. Ovviamente il servizio di trasporto merci autonomi è probabilmente per l'azienda la cosa più allettante di questa nuova tecnologia. Infatti pensiamo solamente che un giorno non ci sarà la necessità di avere personale addetto alla guida di questi veicoli o il rischio che le merci non arrivino per incidenti o arrivino in ritardo perché ci sono stati dei problemi. Ed è per questo che alcuni giganti si stanno spingendo appunto sulla guida autonoma per risolvere questo problema non da poco. Questo era in pillole Waymo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi in generale sulla guida autonoma e se volete vedere altri video al riguardo. Io vi ringrazio tanto per aver visto questo video. Non dimenticatevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.